Come vedete siamo in una struttura che è curata, dovrebbe essere un fioro all'occhiello dell'IPAB, addirittura regionale. È una precipitazione d'obbligo, il piano terra è il primo piano e in affitto al RSA, sono ammalate terminali e quindi sono di pertinenza del Serrano Volpitta, secondo, terzo, quarto piano e tutto questo stabile che vedete qua. Da circa sette mesi, anzi no, da sette mesi, quindi da dicembre stipendi e tredicesima, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, siamo a luglio, sono sette mesi senza stipendi. Questo Serrano Volpitta ha fatto una convenzione con l'ATS, sarebbe associazione temporanea di scopo, però non mi risulta che questa convenzione abbia portato dei benefici a questo ente, perché ho fatto una domanda l'altra volta in prefettura dicendo con quale risorse economiche erano entrati questo dell'ATS, non mi è stata data risposta. Ora capiamo che è una struttura che è composta da 34 ospiti e gestita da una cantina di operatori che sono nove dell'Istituto Serrano Volpitta a Tempo Indeterminato e una decina di operativa di questa TS Rente Insieme. Ora capiamo che solo per pagare 40 stipendi ogni mese ci vogliono circa 50 mila euro. Abbiamo chiesto più volte incontro al commissario Costumati che è stato nominato luglio dell'anno scorso, doveva stare tre mesi, doveva mettere le cose a posto. Pino ora io devo dire a chi l'ha visto perché se l'ho incontrato solo due volte, nel frattempo cambiano continuamente i direttori amministrativi, una volta presi dal comune di Castellammare, l'altra volta presi da qualche altra parte, che si presentano qui a Serrano Volpitta una volta alla settimana. Questo ente farà la stessa fine del Residenze Marino, visto che è diventata terra di nessuno, perché alle nostre spalle, che è sempre proprietà del Serrano Volpitta, ci sono accampati immigrati.